Lo start, il semaforo che si accende e via partiti per l'ultima gara della stagione, il mini-challenge in diretta. Partito molto bene Ivan Tramontozzi che è entrato subito in cima. Oh, mamma mia! Un contatto con veramente brutto, brutto, brutto. Proprio lanciati alla partenza, due vetture che sono entrate in contatto, parte subito il carro a Trezzi. Vedo la portiera che si apre, scusa Fiammetta ma stavo guardando questo, sta uscendo il pilota con le sue gambe, è in fondo qua a rettilino, il carro a Trezzi è partito, vedo già la safety pronta, credo che entrerà la safety car. Sì, è uscita la comunicazione adesso. E' veramente brutta botta. Brutta botta, sono volate le due mini. Ecco, vediamo un po' che cosa è successo. Allora, il 31 con Gagliardini. Si aggancia fondamentalmente con Gagliardini, si toccano i due, ma sembra un normalissimo contatto di gara, ma praticamente si toccano, fa perno e lo spinge fuori. Vola Gagliardini. C'è un piccolo contatto tra Gagliardini e Bencivenni. Grazie. 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 Grazie.